C'è un'epoca di QTSS Ciao a tutti, mi chiamo Mattia e scrivo CSS da molto poco, nel senso che nella mia vita precedente facevo lo sviluppatore back-end e scrivevo Java. E quindi la mia vita quotidiana era fatta di classi che implementavano interfacce con dei metodi che si connettevano a servizi secondo dei design pattern, if, while, cose. E il grande mantra della mia vita precedente era TDD, che sta per Test Driven Development. È una pratica che si è inventato, Kent Beck, che mi ha salvato la vita in mille occasioni. Fondamentalmente l'idea è che prima di scrivere del codice, scrivo dell'altro codice che lo esegue e che verifica che faccia quello che mi aspetto che fa. Quindi io eseguo il test, la prima volta che lo scrivo e che lo eseguo, ovviamente il test fallisce. Quindi nella mia console io avrò una riga rossa che mi dice il test fallisce perché non ho ancora scritto il codice. Scriverò il codice per far avere successo il test, dopodiché lo rifattorizzo. Cosa significa? Significa che il ciclo è fatto così. Test rosso, non ho ancora scritto il codice che devo scrivere. Test verde, ho scritto il minimo indispensabile per far funzionare il mio test. Refactor, riscrivo il codice in una maniera migliore, sapendo che funzionerà perché il test rimane verde. Quindi Martin Fowler, che è quello che ha formalizzato la pratica del refactoring, dice che fondamentalmente il refactoring è il processo di cambiare del codice in modo che faccia la stessa cosa, ma meglio. Quindi migliorando la sua struttura interna. Significa che lo rendo più mantenibile, più leggibile, architetturalmente migliore, magari più performante. Idealmente quindi risolvo il problema del debito tecnico. Che cos'è il debito tecnico? È un concetto complicato da spiegare. Il debito tecnico fondamentalmente è questo. Sono quei problemi che lì per lì sembra non siano così tanto gravi, però si ammucchiano. Continuano ad ammucchiarsi finché non vi ritrovate con una piattaforma, con una codebase fatta così. Che è il peggior inferno che riusciate a immaginare, ovviamente. Perché? Perché non avete fatto refactoring mentre scrivevate il codice. Quando arrivate in una situazione del genere è troppo tardi. Il panico vi assale, o riscrivete tutto da capo, o rifattorizzate un pezzo per volta, però qui è già un problema. Se invece io faccio red-green refactor man mano, qui dovrei non arrivarci, si spera. Quindi quando faccio refactoring? Io ho i miei test, io arrivo dal back-end, ho la mia suite di test, la eseguo tutta, finché i test rimangono verdi sono a posto, quindi posso fare refactoring quasi sempre. Ogni volta che scrivo codice uso la regola del Boy Scout, cerco di lasciare il codice sempre un po' meglio di come lo trovo. Quindi non vale più il principio che se una cosa non è rotta non l'ha giusto. Posso sempre migliorare qualcosa, tanto ho la mia suite di test che mi copre le spalle, sto tranquillo. Ci sono delle cose che mi aiutano a capire che posso rifattorizzare del codice. Quando sento il codice che puzza, ne vedremo alcune in CSS. Tipicamente però non lo faccio alla prima scrittura, perché si dice che la prima volta non è sempre la migliore. Ovviamente quando vi sarà capitato, sicuramente capita anche a me, rileggete il codice che avete scritto sei mesi fa, ma anche la settimana scorsa, e pensate chi è la bestia che ha scritto questa roba. Quindi riguardando del codice vecchio, con una suite di test lo potete riscrivere meglio, perché avete il test che vi copre le spalle. Ovviamente può anche capitarvi che avete delle coding conventions nuove, avete dei pattern nuovi, avete integrato un framework nuovo, dovete allineare quindi del codice vecchio a degli standard nuovi. Avete una suite di test, vi copre, siete tranquilli. Questo da dove arrivavo. Nel mio mondo di oggi non lo posso fare. Perché? Prima di tutto perché dovrei testare su tutti i viewport possibili, che è una cosa che non posso fare. Soprattutto non la posso fare in maniera automatica. Non ho una suite di test che lancio con un comando, che magari mi lancia il mio Jenkins o il mio Travis di turno a ogni build e mi testa tutti i viewport, mi testa tutto il layout del mio sito in modo che funzioni. Sì, lo posso fare, ma è molto molto pesante. Infatti non penso si faccia abitualmente. Qualcuno di voi lo fa? Bravo, puoi andare. Il vero grosso problema per cui però è difficile fare refactoring in CSS è la cascata. Il problema è che non sono mai sicuro che quando cambio del codice faccia, continui a fare quello che faceva. Perché a cascata potrei aver modificato il comportamento di qualcos'altro. Quindi è un po' più un casino. Però ci sono delle situazioni in cui mi viene facile. Ci sono delle code smell abbastanza evidenti in CSS. Una è questa. Se vi trovate ad avere delle regole CSS che fondamentalmente resettano il comportamento di un elemento più in alto nella cascata. Questa cosa si rifattorizza in maniera abbastanza immediata. Ovviamente se vi trovate a resettare delle cose ai loro valori iniziali, vuol dire che probabilmente non avevate dovuto settarle prima. E si può scrivere meglio questo codice. Questo è un refactoring abbastanza gratuito che però il suo effetto lo dà. E è abbastanza safe. Un'altra cosa di cui tipicamente riuscite a liberarvi abbastanza in fretta sono i magic numbers. Anche solo banalmente usando delle variabili. C'è qualcuno qui che nel 2017 non usa un preprocessore? Ok. Quindi almeno delle variabili riuscite a usarle. Queste cose nel 2017 spererei di non vederle più. Grazie. Altre cose che è il caso di evitare e a cui comunque riuscite a rimediare abbastanza facilmente sono queste. I selettori con i nomi dei tag, anche questi nel 2017, dovremmo essere riusciti a liberarcene. Ma al contrario anche i selettori troppo specifici creano spesso e volentieri dei problemi. Sì e no, nel senso che ci sta, è un buon punto, però secondo me se arrivi a un livello di indentazione così, con un preprocessore, comunque non lo stai facendo giusto. O forse è il caso di ripensare a come è fatto il tuo markup e a come è fatta la struttura del tuo codice. Quindi forse vale la pena usare un framework un po' più modulare, un po' più a componenti tipo BAM. È una cosa, ovviamente questa non è una regola assoluta che funziona sempre. però è una smell, se tu hai un selettore fatto così, puzza, ci dai un occhio. Non ti dico che è sbagliato sempre, puzza. Questo invece, questa non è una puzza, questo è un pesce vecchio di dieci giorni, questo male odora forte. I selettori con gli D, anche qui, no, no raga no. Primo, perché sono più specifici solo, cioè l'unica cosa più specifica è lo style in line, che vabbè, non stiamo a parlarne. E, cioè, ovviamente questa roba qui vi rompe tutto il resto della codebase, per cui anche questo, questo puzza tanto, per cui non vi dico anche qui che è sempre sempre sbagliato, ovviamente va valutato, però questo puzza forte. E quindi anche qui cerchiamo, magari, di rimpiazzarlo con delle classi o con qualcos'altro di un po' meno rigido. Questa anche, di nuovo, non è una situazione sempre sempre sbagliata, però anche qui, se io nel mio codice mi trovo ad avere una classe button che fa 500 cose diverse a seconda del contesto in cui si trova, forse alcune regole le posso alzare di livello, o forse devo ripensare la struttura del mio markup e della mia codebase e dei miei nomi delle classi. Non è un problema devastante, però forse devo stare un po' più attento a come do i nomi alle cose, o forse pensare meglio alla modularità della mia codebase mi può aiutare. Come faccio a farlo, però? È un casino per quel problema di cascata che ci dicevamo prima. La soluzione è questa. Isolate, o isolate, a seconda di quanto vi sentite internazionali. La pratica che vi suggerisco di utilizzare è di prendere tutto il vostro CSS, il pezzo di markup che volete rifattorizzare, li mettete in un JSB, in un contesto isolato, rifattorizzate il codice e poi lo riportate all'interno della vostra codebase. Quindi avete fatto il refactoring in isolamento, dopodiché lo rintegrate. Dovrebbe garantirvi un pochino più di tranquillità rispetto alla cascata. Anche qui non avete una suite di test automatizzata che vi copre le spalle, però almeno isolando state un pochino più tranquilli. Ci sono un po' di trick che vi aiutano, che vi danno una mano e non vi salvano sempre sempre la vita, però aiutano. Uno che mi piace molto è questo. Fondamentalmente se voi settate all initial a un elemento del DOM, di fatto lo resettate al comportamento di default del browser. Quello che fate è bloccare la cascata, perché da lì in giù nel DOM tutto si comporterà come se l'aveste resettato. Ovviamente se usate un reset vi perdete i benefici, però vi aiuta a isolare, vi blocca la cascata. È bellissimo perché vi dà gratis il refactoring in isolamento. Tutto bello, tutto figo, quasi. così. Purtroppo c'è il solito problema di quel browser che non è un browser. Questo è un trick che mi piace molto. L'ho trovato su un post di CSS Wizardry e fondamentalmente consiste nel raggruppare in un unico posto, almeno teoricamente, il codice brutto. Gli hack brutti che fate perché il cliente vi ha chiesto una roba entro ieri. Qui ci mettete gli important per farvi capire. E ovviamente vi aiuta in più di un modo. Nel senso che l'idea è che quando devo fare un hack brutto lo metto in un file che posso chiamare shame.css e commento perché l'ho fatto. Fosse anche solo dire questa roba me l'ha chiesta il cliente entro ieri, non volevo, perdonatemi. Però almeno ne tengo traccia. Evita che tra sei mesi rileggiate il codice e vi chiediate ma chi è la bestia che ha scritto questa roba? Ma perché? Ma cosa pensava? Ma odia il mondo? No, teniamo traccia del perché. Oltre a questo vi dà gratis una to-do list delle cose che sono da rifatturizzare. Il problema di questo è che devo sapere in anticipo che sto facendo un hackone brutto e lì è lasciato un po' alla vostra coscienza. Ocio però. Il rischio è che si finisca per fare finger pointing. Faccio git blame, vedo chi ha scritto delle righe in questo file di codice brutto, vado da lui e lo picchio. Asino perché hai usato important, il cliente lo voleva entro ieri, non entro l'altro ieri. C'era un sacco di tempo. Quindi cerchiamo, come al solito, di lavorare con un team se lavoriamo in un team e di essere un po' più indulgenti con noi stessi se lavoriamo da soli. Ovviamente questa cosa non costituisce una giustificazione. Nel senso che non posso neanche dire ok, scrivo le peggio cose che mi vengono in mente, tanto poi qualcun altro le rifatturizzerà. Il Jeff Atwood che è uno dei miei numi tutelari dice sempre che il codice andrebbe scritto come se quello che ci lavorerà dopo di voi fosse un maniaco criminale con un'ascia che sa dove abitate. Quindi anche se abbiamo Shane CSS cerchiamo di usarlo con parsimonia e ovviamente cerchiamo di fare in modo che quando lo usiamo ci faccia male e quindi che lo si rifatturizzi prima possibile, non deve restare lì a sedimentare per tutta la vita. Un'altra cosa molto utile che si può fare quando facciamo refactoring è usare un timer. C'è una tecnica molto famosa legata a questa che ha il nome di un vegetale che non posso usare perché è brevettato. Comunque se timeboxate quello che fate, se vi dite ok mi do mezz'ora, un'ora di refactoring, se alla fine ho finito bene se no butto via, evitate di finire in un tunnel da cui non uscite mai più, alla fine del quale vi ritrovate a aver scritto tutto il codice chissà con quali benefici. Quindi cercate di limitare nel tempo il lavoro che fate. L'ultimo trick è di usare dei tool automatizzati. Funzionano o non funzionano? Soprattutto una cosa che mi fa molto ridere del sito di CSS Lint è che il titolone dice will hurt your feelings, perché la prima volta che lo lanci CSS Lint dice ok va bene mi do alla pastorizia, faccio un altro lavoro, ci sono 500.000 errori, sono una bestia, non sono capace. In realtà molti di questi sono opinabili, per esempio CSS Lint vi costringe e vi dice che non siete capaci se non scrivete le proprietà CSS in ordine alfabetico. Va bene, ok, grazie. Invece CSS DIG è un tool molto carino e tra l'altro si allaccia molto bene a quello che diceva Carla prima, perché è un tool che analizza, vi date in pasto l'url di un sito, analizza tutto il CSS e tra le altre cose vi mostra tutti i colori che avete in uso nel CSS. Per cui per esempio se avete il problema di avere due colori molto vicini tra loro ma non uguali, ve lo evidenzia e riuscite quindi ad allinearli. ora sono andato velocissimo e ho finito. Il segreto è che questo era il mio primo talk in pubblico e mi hanno detto che alla gente piacciono i gattini, quindi ho messo una slide con un gattino. Il segreto di questa slide però è che, grazie, come vi dicevo all'inizio io avevo moltissima paura di fare refactoring del CSS perché lo tocchi, sembra che faccia la stessa cosa che faceva prima, però non lo sai, non hai la suite di test che ti copre. Per esperienza, usando queste tecniche che vi ho raccontato, ho molta meno paura adesso, sono un po' più tranquillo. Quindi non abbiate paura di rifattorizzare il CSS. Abbiate paura dei microfoni. Applausi. Grazie a tutti.